Le cronache, purtroppo, ricominciano a parlare di suicidi. Che sia sotto un treno o che sia uccidersi in una casa che era tua e dalla quale ti hanno sfruttato, cambia poco. Sono storie comunque di disperazione, anche una volta espressione della crisi. Una crisi per la quale la politica fa che cosa? Si potrebbe dire, ed è giusto dirlo, i famosi 80 euro, però qualcun altro ribatte, fatti i conti e vedrai che 80 te le mettono in tasca ma molti più te ne tolgono. Io non lo so, so soltanto che la gente non ce la fa e continua a morire. In Brasile 40 milioni di persone sono uscite dalla povertà. In Italia le persone entrano nella povertà. Mi piacerebbe che ci fosse almeno un politico che ascoltasse quello che dico, non perché dico cose diverse dagli altri, ma semplicemente perché provo a dirglielo. Fatti qua cosa!